Ciao a tutti, sono appena arrivato in ufficio e voglio condividere con voi una riflessione ad alta voce. Le riflessioni, queste riflessioni nascono dall'osservazione, nascono dall'approfondimento di studio oppure nascono dall'interazione con le persone durante la giornata. È importante per noi avere la dimostrazione logica, concreta, delle tante teorie che si sentono sul risveglio spirituale e sull'evoluzione personale. Tutto quello che è teoria ovviamente ha sempre un risvolto di applicazione pratico nella nostra vita quotidiana. La riflessione di oggi è su tre parole, sul capire come tre parole che possono sembrare scollegate e invece tra di loro hanno dei punti in comune. Le tre parole sono mancanza, ricordo e presenza. Parto da ricordo perché poi mi aiuterà anche nella riflessione sulle altre due parole. Allora ricordo, la parola ricordo, noi dobbiamo ricordarci tante cose. Purtroppo la maggior parte delle volte ricordiamo i dolori del passato o i non successi del passato. Invece la parola ricordo vuol dire ricordarsi tutti i giorni quali sono le regole fondamentali della nostra evoluzione. Quindi quali sono le regole che ci permettono, se applicate, di raggiungere la felicità e la libertà interiore. Quindi ricordarci che abbiamo il potere di gestire i nostri pensieri perché il nostro cervello non può non pensare ma noi possiamo gestire il pensiero e indirizzare il pensiero in direzione di quello che desideriamo e di conseguenza allineare poi il pensiero con le nostre emozioni, con il nostro stato emotivo e ovviamente con le nostre azioni. E ricordare soprattutto che siamo qui e in questo momento, in questo preciso momento e in ogni momento della nostra giornata possiamo prendere la gestione dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e delle nostre azioni. Mancanza. Che cos'è la mancanza? La mancanza ovviamente è un qualcosa che non abbiamo. L'evoluzione dell'essere umano avviene attraverso la mancanza. Che cosa vuol dire questo? Che noi per evolvere dobbiamo andare a compensare, a trovare ciò che ci manca. Ma non è tanto quello che ci manca a livello materiale, che possono essere relazioni, possono essere clienti, possono essere soldi, possono essere tante cose, ma è la percezione di quello che ci manca. Se a me manca una determinata cosa e la percezione di questa cosa mi fa stare male, quindi mi crea uno stato emotivo non utile, tendenzialmente tenderò a vedere tutte le cose negative, vedrò solo esclusivamente le cose che mi mancano. Invece di andare a vedere che magari già a mia disposizione ho tantissime altre cose, oppure ho tantissime altre situazioni che possono aiutarmi a sperimentare, a trasformare quelle emozioni. Quindi quando vi manca qualcosa cercate di percepire quale tipo di emozioni vi fa provare e quale tipo di emozioni volete provare attraverso la mancanza. Dopodiché spostate l'attenzione su quello che già avete, che magari quel tipo di emozione già la provate in un'altra area della vita, oppure andate a cercare altre situazioni che vi possono aiutare a ottenere quell'emozione, quello stato emotivo desiderato e magari in situazioni dove non dovete fare molta fatica, perché la fatica e la lotta non portano da nessuna parte, ma neanche la rassegnazione. Se io penso che quello che mi manca sia una cosa irreversibile, che non riuscirò mai ad ottenerla, ovviamente questo può creare la rassegnazione. La rassegnazione è appunto la mancanza di azione. Quindi spostate velocemente l'attenzione e per fare questo ovviamente bisogna essere presenti. Quindi la terza parola è presenza. Quindi presenza costante e osservazione costante dei nostri atteggiamenti, dei nostri pensieri, dei nostri stati emotivi e delle nostre azioni. La presenza è molto difficile perché siamo continuamente distratti. Siamo distratti magari dalle preoccupazioni, dai pensieri che non sono utili, oppure siamo distratti appunto dalla percezione irreversibile di una mancanza che al momento ci sembra impossibile da compensare o da riempire. La presenza vuol dire appunto ricordarsi sempre che l'evoluzione avviene attraverso la mancanza. Bisogna ricordarsi sempre che abbiamo il potere di gestire pensieri, emozioni ed azioni. Ed è importante anche ricordarne la presenza che noi siamo qui e ora e in ogni momento della nostra giornata possiamo mettere in atto tutti quei pensieri, quelle emozioni e quelle azioni che ci permettono di raggiungere poi la felicità e la libertà interiore. Farò spesso delle riflessioni ad alta voce perché invece di scrivere che magari diventa lungo e complicato, vi condividerò con voi quello che mi viene in mente, quello che sono i frutti delle osservazioni quotidiane. Quindi ricordatevi che mancanza, ricordo e presenza costante ci possono aiutare a raggiungere ciò che desideriamo. Detto questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e un abbraccio e a prestissimo. Ciao a tutti.